Buonasera ragazzi siamo qua in San Casciano a fare delle riprese particolari Matteo, Matteo a fare le prime prove, non lo vediamo, forse devo intensificare la luce ecco bravo, siamo a fare delle prove con i nostri droni sia cinematici che in FPV, vediamo un po' che cosa tiriamo fuori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti